In una domenica che vede pochi eventi nello sport cittadino, anche per il weekend di sosta e l'anticipo che ha interessato alcune squadre, ci sono altre formazioni che si prenderanno la scena nella giornata di domani. Partiamo dalla palanuoto, perché ci sarà ancora una gara al Palagalli per la Nautilus in Serie B. Domani alle 14 primo scatto al centro allo Stato del Nuoto per l'incontro con la cadetta del Visnova. La sfida, così come tutte quelle che non sono contro la Gepi, non riveste grande valore. Infatti le verde azzure e le romane sono in testa della rassifica, appaiate, e stanno facilmente avendo ragione di tutte le altre contendenti del raccorpamento Laziale Campano. Ma la novità di questa domenica è che la prima volta mister Daniele Lisi potrà mettere in vasca tutto il gruppo e quindi potrà fare delle valutazioni ideali in vista del prossimo futuro. Due ore prima alle 12 c'è una partita molto interessante per la Flavioni Finestra Perfetta nel campionato di Serie B maschile. I gialloblu attendono la visita al Palosporti in Solera da Magnini della polisportiva Gaeta. Dopo l'inattesto successo di domenica scorsa contro la seconda della classe, il Benevento, il set di coach a Patrizio Pacifico, vuole ripetersi contro la capolista, un gruppo quello pontino che rientra in campo dopo il periodo di stop obbligato, a causa del lutto per la scomparsa del giocatore bianco-rosso Marco Gianni, ucciso mentre era nel vivaio di famiglia a Sabaudia lo scorso 13 aprile, forse per motivi passionali. Tornando alla palla a mano potrebbero ancora esserci problemi di formazione per la Flavioni Finestra Perfetta. Managlia ha già finito la stagione per un problema alla rotula. Frente sulla via del recupero, dopo l'infortunio al dito della mano, Iftimo ultimamente è stato indisponibile. E chiudiamo con un derby cittadino. Nel campionato di prima categoria di calcio si sfidano di LF e San Pio X. L'incontro si disputerà domani alle 15 a Flavio Gagliardini. Canada vince per il rosso blu, che sono a meno 5 dal secondo posto, l'aspirazione massima possibile, e vogliono riscattarsi dopo lo 0-4 Casalingo con il Real Campagnano. Decisamente più tranquilla la situazione dei bianco-verdi, che sono in piena zona tranquillità, e si sono tirati su dalle sabbie mobili del fondo classifica, anche se non vincono davanti al pubblico amico da due mesi.